l'immagine che voi vedete un'opera di claudio parmigiani del 1986 ed è intitolata a lume spento e torneremo su quest'opera nel corso del ragionamento io partirei da diciamo da uno dei fili rossi più importanti del mio lavoro in generale che è quello di chiedermi di che cosa siamo fatti di che cosa è fatto un essere umano e in altri libri a questa domanda io ho risposto dicendo come psicoanalista innanzitutto che noi siamo fatti delle parole non tanto delle nostre ma delle parole degli altri sono le parole che ci hanno fatto che ci hanno costituito sono le parole d'amore le parole d'odio i nomi che l'altro ci ha attribuito noi siamo costituiti dalle parole dell'altro lacan diceva che le parole assomigliano a dei proiettili e che noi saremmo una superficie crivellata di tutti questi proiettili e questi proiettili non sono solo gli insulti che abbiamo ricevuto e abbiamo magari memorizzato e portiamo con noi no come delle eredità disastrose ma sono anche le parole d'amore le parole che hanno lasciato luce non solo ombre in altri libri ho risposto a questa domanda di che cosa noi siamo fatti dicendo che noi siamo fatti fondamentalmente degli incontri che abbiamo fatto è una definizione dell'umano che cos'è un essere umano un essere umano è la somma stratificata degli incontri che ha fatto nella propria vita o più precisamente dovremmo dire che l'essere umano è ciò che ha fatto degli incontri che lo hanno fatto nel corso della sua vita i genitori gli insegnanti maestri gli amori gli amici fratelli questo libro introduce una terza risposta alla domanda di che cosa siamo fatti siamo fatti siamo fatti di parole siamo fatti di incontri ma siamo fatti anche dei nostri innumerevoli morti cioè di ciò che abbiamo conosciuto amato odiato vissuto e perduto noi siamo fatti delle nostre innumerevoli perdite annaren diceva che l'essere umano non è fatto per morire ma è fatto per nascere noi saremmo fatti per nascere per nascere come i nostri morti innumerevoli volte e la nostra vita assomiglia a una nascita che si ripete eppure noi moriamo anzi iniziamo a morire si potrebbe dire con il primo respiro è la differenza profonda che separa la vita umana dalla vita animale la vita animale non non conosce la morte perisce come perisce la foglia che si stacca dall'albero ma non porta con sé il pensiero della morte non porta con sé il pensiero della fine non porta con sé la morte come destino inagirabile è la vita umana che è fatta per nascere dice annaren ma è fatta anche destinata alla morte e morire non è come appunto la foglia che si stacca dal ramo o il gatto che improvvisamente cessa di vivere l'animale porta con sé l'eterno si potrebbe dire l'ho detto in un altro libro gli animali sono eterni l'idea di un animale morto è un'idea contraddittoria che avvicina l'animale all'umano quando noi vediamo un animale con una zampina rotta o un animale malato negli ambulatori di veterinaria noi ci rispecchiamo ci rispecchiamo solo quando l'animale è morente ma l'animale in sé è pulsione di vita è vita è pura vita pura volontà di vita noi invece portiamo nel nostro respiro nel primo respiro una volta che veniamo al mondo il destino inevitabilmente mortale che ci attende questo libro parla del trauma della perdita che trova nella morte nell'esperienza della morte la sua massima espressione perché è perché la morte e qui parlo proprio della morte fisica del defunto di chi entra nel regno dei morti e ci abbandona la morte è una forma della perdita non l'unica perché noi conosciamo diverse forme di perdita ma è l'unica forma della perdita che si rivela sempre necessariamente come dice roland bart in uno straordinario libro dedicato alla madre morta lei non è più qui si intitola è sempre necessariamente definitiva questa è una parola pesante no l'esperienza della morte non conosce possibilità di ritorno ma è definitiva cadono dicero lambarta su di lei pensando alla madre le ali nere del definitivo non è più qui non ci sarà più alcuna possibilità di contatto il regno dei morti si separa dal regno dei vivi ecco perché per esempio gli esseri umani non solo hanno sempre pregato dall'origine della vita no aristotele diceva l'essere umano è un essere sociale un animale sociale si potrebbe dire che noi siamo un animale che prega perché tende a mantenere una qualche forma di legame tra il mondo di qua e il mondo al di là tra il regno dei vivi il regno dei morti non a caso dicevo in una città come torino ancora di più ha senso ricordarlo gli esseri umani hanno fabbricato congegni misteriosi bislacchi strambi per catturare le voci dell'aldilà hanno inventato sedute spiritiche per poter avere ancora un contatto con chi non è più tra noi ma al tempo stesso appunto la morte è un taglio che separa separa i vivi dai morti e rende la perdita definitiva cioè irreversibile irreversibile e dunque la prima domanda che questo libro si pone è non tanto che fine hanno fatto i nostri morti a questa domanda noi possiamo rispondere in tanti modi il modo della polvere che è anche un modo biblico di rispondere a questa domanda è una possibile risposta ma non sappiamo cosa c'è al di là della vita diciamo la domanda che questo libro si pone cosa accade a chi resta e subisce l'esperienza della morte cioè l'esperienza della perdita allora qui si aprono diciamo così ma sarò rapido su questo punto tre differenti risposte al trauma della perdita all'esperienza della morte intanto allarghiamo però il nostro orizzonte cominciamo a dire che la morte così come l'essere umano la vive non è solo la morte che riguarda il defunto colui che scompare appunto entrando nel regno dei morti ma noi facciamo esperienza della morte lo diceva freud dall'inizio della vita con una serie di perdite a cui noi siamo necessariamente obbligati per diventare umani la prima perdita la perdita della nicchia intrauterina siamo espulsi da questa nicchia verso la vita poi abbiamo la perdita il taglio del cordone ombillicale la perdita del seno la perdita delle feci la perdita della nostra famiglia l'allontanamento da casa la perdita del primo amore dei primi amici che tradiscono e ci abbandonano o che noi tradiamo e abbandoniamo facciamo cioè una molteplicità di esperienze di perdite quando questa perdita quindi non solo la perdita della vita ma la perdita di un oggetto un amico un amore un fratello un padre che per noi era significativo quando questa perdita si rivela traumatica quando l'oggetto che si assenta che non è più tra noi che si rende irreperibile che scompare quando questo oggetto era un oggetto che dava senso al mondo e dava senso al tempo stesso alla nostra vita la perdita di questo oggetto dunque non è la semplice come ricorda bene freud la semplice perdita di un oggetto ma la perdita di questo oggetto è la perdita del mondo di un intero mondo che ruotava attorno a quell'oggetto come dire perdere quell'oggetto perdere quell'amore per esempio spoglia il mondo del suo senso fa cadere il mondo nell'insignificanza fa cadere il mondo nell'insensatezza cioè il mondo che conosco dopo la perdita dell'oggetto amato non è più lo stesso mondo di prima cioè lo stesso mondo di prima e non è più quel mondo è un altro mondo è un mondo come dicevo mio paziente afflitto da una perdita amorosa profonda è un mondo dove per me non c'è più un luogo dove stare non ho più un luogo dove stare e il luogo dove stare nell'amore è il corpo dell'altro la perdita del corpo dell'altro è come dicevo un altro mio paziente la cancellazione del mio paese sulla cartina geografica non ho più un paese dove andare non ho più un paese che conosco come il mio paese sono appunto nell'esodo nell'esilio senza terra senza paese senza un luogo dove poter stare perdita del mondo quindi un vuoto un cratere che si apre nel mondo il mondo continua indifferente a ripetere le sue abitudini la sua esistenza come prima ma quel mondo è un mondo che io non riconosco più perché non ho più un luogo in quel mondo questo vuoto il vuoto che si apre nel mondo lei non è più qui lui non è più qui questo mondo per me è irriconoscibile che significa che tutte le nostre abitudini sono disfate sono impossibili i libri che leggevamo insieme i viaggi che facevamo andare al cinema andare al teatro camminare lungo la spiaggia tutto quello che abbiamo fatto insieme diventa improvvisamente impossibile si perde senza possibilità di ritorno vuoto che si apre nel mondo questo è un punto molto importante senza possibilità di ritorno Sartre diceva che l'esistenza umana assomiglia a quella di un viaggiatore e tutti noi saremmo viaggiatori con in mano un biglietto di sola andata non c'è possibilità di ritorno torneremo su questo quindi il vuoto si apre nel mondo non c'è alcuna possibilità di ritorno ma mentre si apre il vuoto nel mondo si apre il vuoto dentro di me il vuoto nel mondo riflette un vuoto che si apre in me sono uno straccio sono insignificante o come direbbe Lacan parlando della perdita dell'oggetto d'amore nessuno più mi attende che è una formula estrema dell'abbandono in fondo quando noi siamo amati siamo attesi la bellezza dell'amore è pensare che almeno ce n'è uno il mio cane per esempio a proposito di animali che so che quando torno a casa mi aspettava sulla porta come sanno aspettare gli animali non c'è nessuno come sanno aspettare i cani anche solo dopo due ore che uno esce di casa il ritorno è una festa come quella del figlio del prodigo sono atteso da qualcuno ecco quando non c'è più l'amore nessuno mi attende più perché io non manco più a nessuno è l'esperienza che noi facciamo traumatica della perdita si perde la perdita non manco più a nessuno nessuno più mi attende la mia vita non è più attesa da nessuno questo apre un vuoto quindi abbiamo due vuoti che si sovrappongono il vuoto nel mondo non c'è più un luogo per me il vuoto dentro di me non so più chi sono io mi perdo insieme alla perdita dell'oggetto che ho amato questo oggetto Freud dice può essere anche un ideale un ideale politico pensiamo al trauma che per diverse generazioni il trauma della caduta del muro di Berlino quindi della fine di una grande idealità politica che dava senso al mondo ecco quel muro che crolla è anche il simbolo di una perdita traumatica perdita traumatica quindi di fronte a questi due vuoti che si sovrappongono noi abbiamo come tre vie differenti tre possibili risposte la prima risposta su cui io indugio abbastanza in questo libro ma anche in altri libri più tecnici diciamo mi sono soffermato e sarò quindi abbastanza breve è la risposta melanconica cioè il soggetto resta pietrificato immobilizzato non riesce più a vivere perché sente di essersi perduto insieme all'oggetto che ha perduto l'ombra dell'oggetto dice Freud l'oggetto perduto cade sull'io che significa che la vita si oscura che la vita perde il suo slancio vitale che la vita è senza desiderio di vita è quello che dice il melanconico sono già morto tutto quello che è accaduto è accaduto prima con in più il senso di colpa ma se non fosse uscito quel giorno se l'avessi amata di più se non avessi preso l'automobile se non avessi perduto il tempo in quel modo la autocolpevolizzazione insieme alla identificazione all'oggetto perduto senza di lei la mia vita non è più niente cito il caso di un paziente di qualche anno fa è un uomo sui 50 anni che viene in seduta perché ha perduto la propria compagna a causa diciamo di un tumore e passa tutto il tempo della seduta a piangere e a quel punto io ovviamente accolgo il suo dolore ma per cercare di introdurre la parola gli chiedo ma quando quanto tempo fa è accaduto e lui dice 20 anni fa questo è un esempio diciamo così di come nel soggetto melanconico il tempo si pietrifica si immobilizza si cristallizza perde la dimensione dell'avvenire è come risucchiato all'indietro risucchiato all'indietro un'altra donna di cui racconto le vicende che ha perso un figlio mentre andava a scuola travolto da un'automobile da quel momento in avanti ha lasciato la cameretta del figlio per molti anni così come il figlio l'aveva lasciata prima di non rientrare più a casa prima di essere travolto da un'automobile dunque il tempo melanconico è un tempo bloccato è un tempo senza tempo dov'è l'oggetto perduto l'oggetto attenzione questo è il vissuto profondo del soggetto melanconico l'oggetto perduto è costantemente presente nella forma dell'assenza cioè lei non c'è più ma come dicevo mio paziente la mia vita è ingombrata dalla sua presenza che però assume le forme dell'assenza cioè questa assenza diventa una forma persecutoria della presenza non posso non pensarci non posso vivere senza di lei senza di lui è sempre con me pur non essendoci più è il dramma diciamo così della reazione melanconica la perdita noi abbiamo dunque l'esperienza del trauma la perdita e poi abbiamo la melanconia che non elabora la perdita ma identifica il soggetto alla perdita il soggetto ripeto si perde insieme all'oggetto che ha perduto e il perdersi insieme all'oggetto è l'unico modo per fare esistere ancora l'oggetto una giovane paziente che ho avuto in cura per tanti anni sviluppa la sua anoressia qualche mese dopo la morte della madre che lei aveva accompagnato per tutta la sua agonia in ospedale per un tumore al seno vedendola su un letto dell'ospedale pelle e ossa questa giovane diventa pelle e ossa attraverso l'anoressia per evitare di separarsi dalla madre come se ci fosse un eccesso di identificazione all'oggetto lei è diventata la madre e questo essere diventata la madre come la madre è un modo per attutire per come dire differire per rinviare la registrazione psichica della perdita della morte della madre dunque abbiamo prima risposta al lutto prima risposta alla perdita melanconia era era la regina vittoria se vi ricordate che dopo la morte del principe Alberto decide non solo da quel momento in avanti di vestirsi sempre di nero il nero come sapete è il colore del lutto soprattutto in certe culture perché i colori del mondo si spengono resta solo il buio non solo ha deciso dal giorno della morte del suo amato principe di vestirsi di nero ma ha consegnato alle domestiche di casa l'incarico ogni mattina di preparare sul letto gli abiti del principe che ogni giorno dovevano essere diversi è un esempio straordinario nella sua drammaticità di reazione melanconica cioè lui non è più qui ma la sua assenza è una forma assoluta della sua presenza non c'è elaborazione del lutto la seconda reazione altrettanto patologica è quella della reazione maniacale il nostro tempo il tempo in cui noi viviamo sponsorizza questa reazione la reazione sarebbe morto l'oggetto ne trovo un altro non dedico tempo al lutto non dedico tempo al pensiero doloroso dell'assenza rimpiazzo sostituisco l'oggetto assente con un nuovo oggetto la reazione maniacale è una reazione che si fonda su un principio di sostituibilità dell'oggetto l'iperattività del soggetto maniacale produce appunto una sostituibilità immediata dell'oggetto morto un papa se ne fa un altro si dice qualcosa che vediamo molto nel mondo giovanile rispetto agli amori finisce un amore ce n'è subito un altro o finisce anche perché ce n'è subito già pronto un altro non c'è pausa non c'è discontinuità non c'è pensiero pensiero dell'assenza noi viviamo in un tempo così cioè viviamo in un tempo che vorrebbe rendere sostituibile la dimensione insostituibile e indimenticabile dell'oggetto perduto come dire non sei indimenticabile non sei insostituibile ti sostituisco e ti dimentico mentre ti sostituisco immediatamente è una forma di negazionismo di cui l'esempio più clamoroso dal punto di vista culturale è il negazionismo della Shoah non è successo niente i campi non esistevano la morte non esisteva è stata un'invenzione della propaganda americana tutto falso negare l'orrore negare la realtà della morte è quello che il nostro tempo per esempio realizza invocando gli interventi multipli di chirurgia estetica cercando di rinviare il più lungo possibile il tempo della morte rendendo questa stessa parola impronunciabile in televisione per esempio non è più parlare di sesso che è osceno si diventa osceni quando si parla di morte e il fatto che questo libro libretto in fondo sul lutto la morte sia uscito sotto Natale è stato un problema con l'editore l'ho dovuto convincere che forse eravamo in un tempo dove qualche parola sulla morte sul lutto sul trauma della perdita era necessaria ma in fondo il ragionamento commerciale che giustamente ogni editore fa è Natale la festa della vita non è la festa della morte se ammesso possa esistere la festa della morte melanconia e mania sono il polo nord e il polo sud sono due reazioni egualmente egualmente patologiche quella che Freud suggerisce essere diciamo la reazione più adeguata al trauma della perdita è quella del lutto non come reazione emotiva alla perdita ma del lutto come proprio hard bite cioè come lavoro è il lavoro del lutto di fronte alla perdita noi avremmo quindi da una parte la via di uscita maniacale dall'altra l'identificazione melanconica che comunque è una negazione anch'essa del trauma della perdita lei non c'è più ma è sempre presente nel mio dolore e nel mio rimpianto e la terza via è la via del lutto come lavoro in che cosa consiste il lutto come lavoro Freud lo dice molto chiaramente ci vuole innanzitutto del tempo non esiste lutto rapido il lutto esige usa questa bella espressione un supplemento di tempo supplemento di tempo un lasso un'altra espressione di Freud un lasso di tempo non c'è lutto rapido la mania vorrebbe che il lutto fosse rapido dimenticare immediatamente e il lavoro del lutto implica appunto il tempo un supplemento di tempo il tempo lungo del pensiero e cosa serve questo tempo perché il tempo deve essere necessariamente lungo perché l'altra caratteristica del lavoro del lutto è che ci deve essere memoria noi dobbiamo ricordare avere il tempo di ricordare chi non è più tra noi il lavoro della memoria è un lavoro diciamo così ecco il terzo elemento è un lavoro che ricupera riprende le immagini il film che ha caratterizzato la nostra vita con l'oggetto perduto è come se noi davvero quando siamo impegnati in un lavoro del lutto riattraversassimo attraverso tutte le immagini che hanno caratterizzato la nostra vita con quell'oggetto quella storia quella vicenda quella passione ci vuole tempo ci vuole memoria e questo attraversamento altro elemento fondamentale non può essere indolore non esiste lutto indolore è la dimensione atroce del lavoro del lutto atroce perché l'esperienza della morte come diceva Simone de Beauvoir è sempre un'esperienza della morte umana è sempre un'esperienza prematura non esiste mai morte naturale quando muore un essere umano la morte viene sempre troppo presto anche quando muore un anziano la morte è sempre contro natura non dovrebbe accadere c'è una dimensione di ingiustizia nella morte e dunque abbiamo questa esperienza del tempo della memoria del dolore dice Freud che costituiscono i passaggi fondamentali del lavoro del lutto per arrivare dove quando il lavoro del lutto finisce quando posso dire beh adesso adesso ritorno a vivere adesso la vita riprende c'è una bellissima immagine di Nietzsche che associa il lavoro del lutto al vento di primavera rispetto alle acque gelate dell'inverno c'è il tempo dell'inverno dove tutto si gela e poi c'è il tempo del vento di primavera che scongela le acque o usa anche questa bellissima immagine del vento australe che è il vento che viene da sud il vento caldo ecco accade qualcosa di simile che a un certo punto la vita riprende a vivere la domanda che Freud si pone è quando quando possiamo dire è terminato è finito il lavoro del lutto la tese di Freud che c'è un punto in cui noi possiamo dire che il lavoro del lutto finisce e quando finisce certamente quando ci sentiamo alleggeriti quando non viviamo più la perdita come un un sasso al collo un peso che ci opprime quando la nostra vita ritrova la sua voglia di vivere diciamo toglie il sasso dell'oggetto perduto dal collo Freud parla del lavoro del lutto compiuto il compimento del lavoro del lutto e questo accade quando tecnicamente la libido del soggetto che si era trasferita sull'oggetto ritorna al soggetto come dire mentre la perdita dell'oggetto svuota come abbiamo visto il soggetto della sua libido cioè della sua pulsione vitale il termine del lavoro del lutto è una sorta di ricupero di riappropriazione della libido che è stata portata via dall'oggetto quando c'è una separazione noi non perdiamo solo la persona che si separa da noi ma noi perdiamo anche una parte di noi stessi la persona che si allontana da noi stacca da noi una parte di noi stessi ci svuota porta via appunto una parte di noi stessi e dunque il lavoro del lutto si compirebbe nella misura in cui io ritrovo ricupero quella parte che l'oggetto aveva portato via da me mi riabbono mi riapproprio di quella parte Freud dice il lavoro del lutto si compie la tesi che sviluppo in questo libro è che in realtà non esiste mai lavoro del lutto compiuto che il lavoro del lutto è destinalmente interminabile che noi cioè portiamo con noi stessi resti dell'oggetto perduto delle tracce dell'oggetto perduto e siamo fatti di questi resti di queste tracce e proprio perché siamo fatti tutti di questi resti di queste tracce lei non è più con me lui non è più con me ma conservo di lei di lui la memoria di ciò che lui e lei è stato per me la porto con me e proprio per questo poiché noi siamo fatti anche di queste perdite e dei loro resti è l'attrazione intensa che gli esseri umani hanno per le rovine per esempio gli esseri umani hanno una grande attrazione per le rovine cito Hansen Kieffer per darvi l'idea di un pittore che ha fatto della rovina un grande tema estetico noi siamo attratti delle rovine perché siamo fatti di rovine perché la nostra vita psichica è abitata di resti noi siamo fatti dei resti delle nostre innumerevoli perdite dei nostri innumerevoli morti e qui si apre la parte più se volete creativa di questo testo cioè la riflessione sulla nostalgia e l'idea che dobbiamo distinguere due forme fondamentali di nostalgia la prima forma della nostalgia è una nostalgia melanconica che nel libro descrivo come centrata sull'esperienza del rimpianto nostos algos nostalgia viene da queste due parole greche il ritorno il dolore del ritorno perché abbiamo detto che il ritorno è impossibile Sart ce lo dice abbiamo un biglietto il mio paziente dice ma io non ho neanche quel biglietto questo è un altro cioè non ho nessun biglietto né di andata né di ritorno ma noi abbiamo un biglietto di sola andata quindi il ritorno è impossibile la nostalgia rimpianto è una varietà potremmo definirla così una varietà della reazione melanconica al lutto cioè io il mio sguardo è rivolto all'indietro rivolto alla forza dei miei vent'anni che non ho più al primo bacio perduto del primo amore che non è più con me alla terra che ho dovuto lasciare alla gioia della mia infanzia ai miei amici ai fratelli che ho perduto che non sono più con me io guardo all'indietro e quello che vedo all'indietro è la vita che ho perduto è la vita che è divenuta irrecuperabile per me non solo quello che è accaduto e non è più la forza dei vent'anni la vigoria del corpo della giovinezza non quello che è perduto e che non è più ma anche quello che non ho fatto e non è più avrei potuto baciarla quella sera non l'ho fatto avrei potuto accettare il dottorato a Pisa non l'ho fatto avrei potuto continuare quel viaggio e non l'ho fatto avrei potuto visitare New York una volta nella mia vita e non l'ho fatto cioè la nostalgia riguarda anche tutto ciò che noi non abbiamo fatto la nostalgia rimpianto implica tutte le occasioni che abbiamo perduto non solo ciò che si è accumulato alle nostre spalle che guardiamo con struggimento con rimpianto appunto ma anche tutte le occasioni che abbiamo perduto che sono accumulate alle nostre spalle quindi la nostalgia rimpianto è una catena è qualcosa che ci blocca che non ci permette di vivere Gesù ammonisce nei Vangeli lascia che i morti seppelliscano i loro morti come puoi pensare di guidare l'aratro se il tuo sguardo si volge all'indietro è la posizione radicalmente antimelanconica della parola della parola di Gesù noi sappiamo che il rimpianto è una sabbia mobile e che quando finiamo nel rimpianto noi finiamo come risucchiati all'indietro e il rimpianto produce solo avvelenamento della vita caduta della forza generatrice della vita ma la nostalgia non è solo questo tanto nostalgia è un termine interessante vi ho mostrato l'etimologia ma è un termine che non appare per esempio dove uno si immagina potesse apparire all'origine dell'Occidente nell'Odissea se pensate si può rileggere tutta l'Odissea come una grande rappresentazione della nostalgia ma questo termine non c'è Ulisse per certi versi è la figura no? la figura del rimpianto la figura del rimpianto che però non trovo la citazione eccola qua desidero e invoco ogni giorno della mia vita dice Ulisse ritornare a casa non desidero altro che vedere il ritorno questa è l'immagine della nostalgia come rimpianto della casa perduta della terra perduta e noi sappiamo che però Ulisse stesso una volta che ritorna a casa che ritorna a Itaca non conclude affatto il suo viaggio perché non c'è ritorno nella vita umana non esiste possibilità di ritorno recentemente per i miei 60 anni ho voluto ritornare con mia madre nei posti della mia infanzia friulana siamo tornati nei posti nei meravigliosi nomi i nomi friulani adesso non vi parlo in friulano i nomi friulani dei paesi della casa dove ho vissuto e non ho trovato nulla e non si trova mai nulla tutto è rimpicciolito gli spazi non sono gli stessi lo dice molto bene Kant è un'illusione ritornare là dove si era stati perché quei luoghi non ci sono più sono scomparsi insieme alle nostre emozioni di quegli istanti di quei momenti accade anche nei viaggi il primo viaggio in Finlandia non è come il secondo di solito di solito se io voglio andare a ritrovare quelle emozioni che ho vissuto nel primo viaggio non le trovo troverò qualcos'altro ma non quelle cose quelle sono perdute per sempre dunque stavo dicendo che la parola nostalgia viene in realtà da Hofer nel 1688 un giovane medico alsaziano che si laurea a Basilea in Svizzera con una tesi di medicina che prende come in esame una sindrome particolare che colpisce i soldati svizzeri in missione in Europa e i marinai che cosa hanno in comune i soldati svizzeri e i marinai che entrambi sviluppano lontani da casa un sentimento struggente di nostalgia di desiderio di ritornare a casa di rimpatriare la nostalgia e rimpianto ha a che fare con questo desiderio di ritorno che però diciamo subito è un desiderio impossibile che crea appunto solo fenomeni diversi di idealizzazione del passato e di impossibilità di ritrovamento del passato dunque il ritrovamento del passato sarebbe il rimedio dell'afflizione nostalgica ma questo rimedio in realtà è irraggiungibile perché non c'è possibilità di ritorno questo è il punto centrale non c'è possibilità di ritorno è come a rovescio i vagabondi di aspettando Godot Godot non arriverà mai il ritorno a casa è impossibile perché la dimensione della vita umana è una dimensione esodica cioè vincolata all'esperienza dell'esodo e non alla esperienza della terra della terra propria ma noi abbiamo e questa è la parte più a me più cara di questo libro ho ancora un po' ce la faccio sì abbiamo la seconda forma della nostalgia che io chiamo nel libro nostalgia gratitudine c'è una canzone nostalgia canaglia adesso mi viene in mente così ma non è uno dei riferimenti che trovate nel libro diciamo la nostalgia gratitudine e di questo vorrei parlarvi per ritirarci su un po' il morale dopo aver attraversato le lande desolate del lutto della morte della perdita dei vuoti qui alle mie spalle abbiamo una straordinaria rappresentazione della nostalgia gratitudine la nostalgia gratitudine si può affrontare attraverso l'immagine astrofisica del fenomeno delle stelle morte conosciamo il fenomeno fenomeno è che le stelle luminose che appaiono nei nostri cieli provengono da corpi celesti morti milioni di anni fa quindi la luce ci raggiunge attenzione ci raggiunge dal passato la nostalgia gratitudine implica un'esperienza della visitazione è il passato che mi visita che viene a trovarmi che mi illumina non sono io che cerco frugo nel passato per cercare di riappropriarmi di ciò che ho perduto senza mai trovarlo ma è il passato che viene davanti a me e mi visita mi illumina straordinaria quest'opera di Claudio Parmigiani perché che cosa vedete in quest'opera vedete un mistero c'è un lume spento si intitola a lume spento ma dove viene da dove viene il pigmento giallo la luce che voi vedete apparire sul profilo della testa questo lume è spento l'oggetto è perduto ma da questo oggetto perduto che è il corpo morto delle stelle proviene una luce questa è l'esperienza straordinaria della nostalgia come gratitudine che qualcosa viene e mi visita laddove qualcosa è già morto per questo per esempio Morandi Giorgio Morandi maestro di Claudio Parmigiani sgridava le sorelle viveva con le sorelle Giorgio Morandi è quello delle nature morte delle bottiglie sgridava le sorelle quando lucidavano le sue bottiglie le sue tazze i suoi bicchieri toglievano la polvere Morandi diceva ma cosa fate non togliete la polvere perché la luce è nella polvere non c'è la luce e le tenebre non c'è la luce e le polvere non c'è la luce e la cenere ma come dice Claudio la cenere è luce dal buio emerge la luce dalla polvere come Morandi mostra nelle sue straordinarie opere che implicano questa nostalgia che non è lo struggimento del passato ma è una visitazione della luce la luce che arriva dalla polvere allora nel libro io faccio diversi esempi tanti esempi di questa nostalgia gratitudine dunque siccome non avrò molto tempo ne scelgo due diciamo una è Jean-Luc Nancy alcuni di voi lo conosceranno grande filosofo scomparso un anno e mezzo fa si racconta non so se sia vero che abbia lasciato ai suoi allievi ai suoi amici ai suoi familiari un biglietto con scritto portatemi con voi che io trovo infantile e mitico insieme mitologico insieme portatemi con voi vuol dire così io leggo non 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 piangete sulla mia morte non pensate alla mia vita al passato non pregatemi come morto fatemi vivere ancora portatemi con voi fate in modo che io assomigli al corpo di una stella morta portate la mia luce con voi delizioso no? secondo è più autobiografico ci sono un paio di cose autobiografiche ne cito una tra le due sono due e che riguarda la mia professoressa Giulia Terzaghi che molti di voi se leggete i miei libri conoscono perché l'hanno incontrata nell'ora di lezione ma nell'ora di lezione non ho omesso questo ricordo e è un ricordo che appunto è venuto a visitarmi il giorno in cui scoprì della sua morte lo scoprì quando compievo compievo 50 anni e il regalo che volevo fare a me stesso per i miei 50 anni era rincontrarla la mia vecchia prof diciamo allora vado a cercarla su google e trovo che è morta qualche mese prima vedo i necrologi dei suoi allievi di allora chiamo il preside mi accerto che sia lei era lei dunque Giulia non era più di questo mondo e in quel momento un ricordo arriva e da quel momento in avanti si è come impiantato nella mia testa non perché lo ricordassi in quel momento l'avevo sempre portato con me non l'ho mai dimenticato questo ricordo ma la sua morte l'ho come riacceso e mi ha fatto vedere come questo ricordo per me sia stato una sorta di appunto luce che ha accompagnato i passaggi più fondamentali della mia vita ricordo semplicissimo esame di maturità prova di italiano tema lei era allora c'erano ancora le commissioni membro interno come si diceva io mi stavo per concentrare nella mia prova che era su Giovanni Verga ricordo molto bene anche lo sviluppo del tema in realtà e lei si avvicina mette le sue mani bianche sul mio tavolo mi guarda e mi dice Massimo resta lucido questo perché questo è diventato per me un talismano perché non mi ha detto Massimo attenzione fai bene strafai fai il massimo fai più di quello che devi fare non mi ha detto resta te stesso fai quello che sai fare resta lucido perché quello che sai fare è più che sufficiente per me questa è l'idea della parola di un adulto che su un giovane su un figlio ha la potenza di un talismano resta lucido e in tutti i momenti della mia vita in cui sono stato in difficoltà veniva chissà da dove la luce di questa frase Massimo resta lucido concludo visto che di solito si fa almeno una citazione per dirvi che a volte sono banalità così che si impiantano come pietre nella nostra memoria e che diventano dei punti luce non sono necessari i grandi gesti le grandi lezioni gli atti straordinari sono piccole luci la polvere sui quadri di Morandi piccole cose che portiamo portiamo con noi e che in fondo come il biglietto di Nansino portatemi con voi cito solo questo passaggio che sono molto legato per darvi l'idea ecco l'ultima cosa prima di questa citazione finale nel libro i tre esempi più ampi che propongo sono tre esempi di film dove noi vediamo tre oggetti che sono visitazioni perché la gratitudine è questo modo di entrare in rapporto al passato ringraziando quella frase massimo resta lucido non rimpiangendo ma ringraziando benedicendo quella frase e i tre esempi sono nuovo cinema paradiso non mi soffermo la pellicola che Alfredo consegna al regista viene dal passato ma è come un UFO che arriva dal futuro questa pellicola con tutti i passi censurati dei vecchi film in bianco e nero i baci gli abbracci la passione secondo oggetto è nella grande bellezza voi avete presente il bacio del il bacio che tra l'altro non viene mai consumato tra il protagonista e il suo primo amore non accade quel bacio eppure quello è stato il grande amore poi si scopre dal diario di Elisa donna diventata matura che lui era stato il più grande amore della sua vita questo diario che torna dal passato come una luce e che attenzione consente al protagonista della grande bellezza che soffriva di un di una inibizione la scrittura dopo un primo romanzo che ebbe un grande successo noi abbiamo uno scrittore paralizzato che è diventato una sorta di arlecchino triste della vita mondana di Roma ritrova il diario il marito di Elisa lui chiede di poter leggere il diario per verificare che davvero è stato l'unico grande amore della sua vita e il compagno della sua ex gli dice ho buttato questo diario non c'è più è la perdita definitiva del diario che rende possibile il progetto di un secondo libro terzo oggetto straordinario è la Gran Torino di Clint Eastwood che è anche qui un oggetto del passato che però se vi ricordate come finisce il film va nelle mani di Tao e il film si conclude con questa Gran Torino che sfreccia lungo le coste dell'oceano verso il futuro questa è la luce delle stelle morte concludo solo citando questo passaggio per dirvi solo di che cosa in realtà parliamo si tratta dell'annuncio di una eternità sconosciuta il dettaglio della sua bocca e dei suoi occhi la parete rosa di quella montagna il vaso rotto che abbiamo messo accanto alla porta della nostra casa al mare il suo vestito appeso alla porta le sue carte di lavoro sparpagliate sul grande tavolo dello studio il profumo inconfondibile della sua pelle e dell'erba tagliata nei mesi di primavera la piega del suo viso quando l'ho visto uscire improvvisamente azzurro dall'ombra la prima volta l'odore l'odore del suo dopo barba che si spandeva di mattina presto nella casa di famiglia il cespuglio di calle bianche nella nostra casa friulana dopo la pioggia la ghiaia bianca del vecchio cortile l'odore delle pesche che andavamo raccogliere d'estate la portulaca sul muro di pietra il suo sudore sulla fronte le prime volte dell'amore la sua voce inconfondibile che canta in una piazza gremita di giovani in festa la tua parola che risuona nell'aula come un vento limpido e forte la primavera che ritorna ogni anno con la stessa energia le nuvole bianche scure nel cielo di slanda il tuo ginocchio ferito quando sei caduta scendendo dalla barca a San Giorgio a Venezia in un bellissimo giorno d'autunno la mano di Dio sulla mia testa grazie grazie